E' ufficiale, Bruno Di Iorio vuole fare il sindaco di Chieti. Medico di famiglia, con la passione per i cani e il Chieti Calcio, sarà sostenuto da Italia Viva e dal gruppo teatino di Forza Italia. Queste sono due aree politiche totalmente opposte, che però si sono scorporate dal progetto politico, dai segni classici di partito. Questo è un progetto civico per la nostra città, per Chieti. Io sono un personaggio non politico, non partitico. Mi hanno chiamato questi personaggi che hanno accettato di parlare soltanto di Chieti, a prescindere da quelli che sono gli interessi nazionali politici. E quindi io mi sono prestato e l'ufficialità adesso la posso dichiarare, perché non essendo più un bambino, perché purtroppo ho l'età, capivo che i giochi politici avrebbero portato anche a decisioni all'ultimo minuto che magari confliggevano con la mia persona. I giochi politici a cui Di Iorio fa riferimento sono presto detti. Forza Italia a Chieti è da tempo la spina nel fianco del centrodestra e non aveva alcuna intenzione di sostenere il candidato leghista, Fabrizio Di Stefano. Poi l'accordo a Roma tra i leader di partito che hanno imposto l'unità. Ma i berlusconiani e i teatini si sono ribellati al seguito dell'assessore regionale Mauro Febbo, che si è sospeso dal partito. Mauro Febbo si è autosospeso dal suo partito e si gioca la faccia, si gioca il suo futuro, la sua carriera, ma lo devo soltanto apprezzare e credo che mi dia forza nei confronti della città. Perché se la città vede un soggetto politico che viene dietro a una persona totalmente teatina, che pensa solo a Chieti, io credo che ci faccia gioco in favore sia a me che a Mauro Febbo. Secondo Di Iorio, Di Primio lascia in eredità una città morta. A chi chiede cosa farebbe da sindaco, il medico risponde rianimare la città. La prima cosa è provare a rianimare, sarà molto difficile, faccio il medico, quando uno sta in rianimazione è molto difficile farlo ripartire. Qua tutto si può fare, perché è una città morta, quindi si può ripartire dal rene, dal polmone, dal cuore che non funziona. Se mi metto a fare promesso sul classico politico, vado a Roma a chiedere i finanziamenti, ma che vanno, ci stanno a dire in giro? A chi vado a chiedere? Cercherò di lavorare come Tiatino e quelle 100 euro che abbiamo ce le giochiamo per bene la città. Devo rivitalizzare le periferie. Io abito in periferia, per torno a casa devo stare attento ai buchi. Lei è venuta qui, la sala della prefettura, vede quanti buchi ci sono, un capologo di provincia si può presentare così. Iniziamo dalla piccola manutenzione, poi i progetti futuristici li faremo con calma. Noi siamo bravi a vendere fumo, ma io non vendo fumo, io faccio fatti, partiamo dalle piccole cose.